Fine settimana intenso per i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Vittoria e le prese con un servizio mirato al contrasto dello spaccio di piazza tra Vittoria e Marina di Acate. In Manette 4 Magribini dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto la lente di ingrandimento dei militari e la frazione di Marina di Acate e Piazza Segna Vittoria, i luoghi da sempre considerati canali di approvvigionamento per i ragazzi del posto e quelli provenienti dai comuni confinanti. A Vittoria è finito in Manette, Omarafs, un algerino di 43 anni domiciliato nella città iperina, abbracciante agricoli regolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato per reati specifici. Sottoposto a perquisizione personale, in piazza Daniele Manin è stato trovato in possesso di 41 grammi circa di hashish. La sostanza era suddivisa e celata all'interno dei bermuda e delle scarpe da ginnastica che l'uomo indossava al momento del controllo. A Marina di Acate, invece, i carabinieri della stazione di Acate hanno arrestato tre tunisini, Ben Hassan Ford, di 23 anni, Majab Nahim, di 27 anni e Didi Mohamed Anwar, di 24 anni, tutti domiciliati ad Acate, disoccupati, incensurati ed irregolari sul territorio nazionale. Questi sono stati sorpresi mentre cedevano una stecca di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 2 grammi a due giovani nisce mesi di 25 e 19 anni. I due giovani sono stati segnalati all'ufficio territoriale del governo di Katlitanissetta per detenzione per uso personale, nonché il divieto di ritorno nel comune di Acate. Per i tre tunisini, invece, è scattato l'arresto perché, a seguito delle perquisizioni personali e domiciliari, sono stati trovati in possesso di 18 grammi di hashish. Già suddivise in apposite dosi la somma contante di 285 euro ritenuta a provento dell'attività illecita. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante il fine settimana, inoltre, è stato deferito in stato di libertà un 26enne di vittoria al residente di Acate, disoccupato o pregiudicato perché sorpresa la guida della propria autovettura, un Golf, privo della patente di guida perché è revocata dalla prefettura di Ragusa.